Ma stando qui ci abbiamo rinunciato Andiamo Siate sincere, non sapreste da dove cominciare con un vero uomo Tu trova ce n'è uno e poi vedi se so da dove cominciare Anch'io Tu trovalo, al resto poi ci pensiamo noi E va bene, vi metto alla prova Facciamo la scommessa Smettete di chiacchierare, cominciate a studiare Ma signorina, guardi che noi stiamo facendo una ricerca di gruppo Sì, ma una volta trovati ognuno per sé Ok, e allora come si fa? Dunque, qui ci sono diversi numeri del Sunday Express di questa settimana Io non li ho guardati, ma in prima pagina c'è sempre una rubrica speciale intitolata La gente di cui si parla Lo so, e c'è sempre la fotografia di qualche pezzo grosso che sta a Londra o che arriva per qualche congresso Giusto, ognuna di noi prende un giornale alla cieca senza guardare la fotografia E il pezzo grosso che le tocca deve riuscire a portarsela a letto Ma è assurdo, quelli sono tutti personaggi famosi Non vorrei mica tirarti indietro proprio adesso, vero? Avete paura di non farcela? Io no, anzi comincio io Il compagno Krashnar, oh mamma mia, il vice segretario del Soviet Supremo Io ho letto che è fissato con le macchine e le crociere sul Mar Nero, è un tipo sportivo Dovrebbe essere piuttosto facile se non è tutta propaganda Ma dove starà a Londra? Come faccio a trovarlo? Probabilmente è un'ambasciata russa Qui dice anche che è stata invitata ad una cena in casa del ministro degli esteri Non dovrebbe essere difficile trovarlo Molto spiritosa Ora prova tu, Chris Fai prima tu No, io voglio essere l'ultima Così non potrete dire che mi sono scelta il meglio del mazzo Santo Dio, un cinese Beh, sentite, più scalognata di così non potevo proprio essere E perché? È giovane e atletico, no? Ed è il numero uno della squadra di ping pong della Cina La squadra cinese si trova a Londra per una settimana di incontri amichevoli Il capitano è Wanlo